Grazie. Attraverso questa interrogazione si intende chiedere quali sono gli intendimenti della Giunta riguardo a una situazione di difformità palese e storica che riguarda la nostra Regione. Facendo un piccolo preambolo, il titolo quinto della Costituzione e la legge regionale 30 2004, norme in materia di bonifica, va in attuazione dei criteri costituzionali a identificare nella Regione la competenza relativa all'organizzazione della bonifica, quale attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a preparare uso in riguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale. I comprensori di bonifica in cui viene organizzato il territorio regionale in un criterio di omogeneità, sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, sono sette. I consorsi di bonifica che sussistono sopra di queste aree sono enti pubblici a struttura associativa e di autogoverno, che operano sul territorio in regime di sussidiarietà orizzontale per l'adempimento dei propri fini istituzionali e quindi hanno il potere di imporre contributi ai propri consorziati e a tali contributi è stata riconosciuta dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza natura tributaria con potere impositivo. I consorsi di bonifica che operano in Umbria sono tre, il consorzio di bonifica Tevere Nera, il consorzio di bonificazione Umbra e il consorzio Valdichiana Romana Valdipaglia. Sono stati istituiti nel 1933 con il reggio decreto numero 215 e sono operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 2004, quindi già erano in funzione. L'agenzia forestale Umbra, l'agenzia forestale regionale, è un ente pubblico non economico, quindi istituito e controllato dalla regione Umbria, che svolge funzioni attribuite dalle leggi 18-2011, in particolare la gestione dei beni agroforestali e poi andando avanti nelle varie modificazioni della legge e in vari ulteriori interventi, anche in materia di bonifica, di cui legge regionale 30 2004, nei territori ove non operano i consorsi di bonifica, già esercitati delle soppresse comunità montane. Quindi, conseguentemente, nei territori dell'Alto Tevere Assino, Chiascio, Trasimeno, Medio Tevere, Nestore e Alto Nera, non essendo istituiti i consorsi, l'Afor esercita queste funzioni attraverso le risorse che vengono messe a disposizione dalla regione con la fiscalità generale, mentre negli altri comprensori queste stesse funzioni sono esercitate con le famose tasse che vengono imposte dai consorsi. Sostanzialmente, su questi comprensori, i cittadini delle aree dove sussistono i consorsi pagano due volte, perché pagano tramite la fiscalità generale e pagano tramite i tributi che vengono imposti. Oltretutto, in questo tipo di situazioni abbiamo una folta sovrapposizione derivante da tutta una serie di competenze che nel corso degli anni si sono stratificate. Provincie, comunità montane, consorsi di bonifica, comuni, Afor. Ad esempio, nelle acque di categoria 3, quindi ad esempio il nera, la competenza è regionale, nonostante nei territori della Valnerina Ternana venga sussista l'attività dei consorsi di bonifica. Quindi l'interrogazione, in concludo Presidente, vuole richiedere all'aggiunta quali sono gli intendimenti, riconosciuto il ruolo essenziale del lavoro svolto dai consorsi di bonifica operanti nel territorio regionale, se l'attuale giunta regionale voglia porre fine all'iniquità fiscale in materia di bonifica, sicurezza idraulica e manutenzione del territorio, procedendo conformemente alle proprie prerogative ad una profonda modifica della legge 30-2004, in modo che sia la fiscalità generale a farsi carico uniformemente in tutta l'Umbria delle materie sottette, preservando e tutelando le professionalità oggi inserite nei consorsi di bonifica, ma senza pretendere da alcuni territori tributi altrove inesistenti, introducendo criteri di legalità ed uniformità in materia per tutti i cittadini dell'Umbria. Grazie, Consigliere. Assessore Morroni. Grazie, Presidente. Consigliere De Luca. I consorsi di bonifica sono enti a carattere associativo, retti dal principio di autogoverno dei consorziati ed espressione di autonomia funzionale garantiti dall'articolo 118 della Costituzione. Si aggiunga che, anche se il Governo e la tutela del territorio rientrano nella competenza regionale, la giurisprudenza in materia ha più volte affermato che la Regione non ha alcun potere di sciogliere i consorsi di bonifica che restano enti tutelati dalla Costituzione, disciplinati dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di bonifica. Pertanto si ritiene che le Regioni possono eventualmente affidare proprie funzioni ai consorsi ed erogare a tal fine specifici finanziamenti. L'articolo 59 del Regio Decreto 215 del 1933, tuttora in vigore, prevede che le spese necessarie per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché le spese per il normale funzionamento del consorzio, sono in capo ai proprietari degli immobili, situati nel perimetro di contribuenza, in ragione del beneficio che da queste ne traggono. Il consorzio, pertanto, è tenuto per legge ad imporre i contributi consortili a carico dei proprietari di immobili, sia agricoli che extraagricoli, situati nel comprensorio di bonifica che traggono beneficio dalle opere di bonifica stesse. Ciò posto, e opportunamente richiamato, è del tutto evidente che dopo più di 15 anni dall'entrata in vigore della legge regionale 30 del 2004, sia necessario procedere ad una complessiva revisione della materia, a partire dalla ridefinizione dei comprensori di bonifica, le relative modalità di delimitazione degli ambiti territoriali. Del resto, la stessa legge regionale, la numero 18 del 2011, e nello specifico all'articolo 67, aveva affidato alla Giunta regionale il compito di una revisione dell'impianto normativo in materia di bonifica e di irrigazione, sulla base di quattro principi fondamentali, che vado rapidamente a riassumere. Primo, ridefinizione dei comprensori di bonifica e le modalità di delimitazione dei relativi ambiti territoriali. Due, riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorsi di bonifica e il conferimento di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo alle unioni speciali dei comuni. Terzo, adeguamento dei criteri e delle procedure per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private dei consorsi di bonifica. E da ultimo, quarto, funzioni di vigilanza e controllo della Regione sulle attività e sul funzionamento dei consorsi di bonifica, al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi. L'allora Giunta regionale, a fine 2012, avviò l'iter legislativo di revisione e modifica nelle norme regionali in materia, mediante la preadozione del disegno di legge recante nuove norme in materia di bonifica e di irrigazione. Disegno di legge che, ispirandosi ai principi normativi soprarichiamati, novellava in maniera significativa la legge regionale 30 del 2004, al fine di rispondere, da un lato, alle esigenze di semplificazione e di riduzione dei costi mediante una razionalizzazione di servizi comuni, prevedendo anche la possibilità di attribuire all'istituente agenzia forestale la realizzazione di opere di bonifica e o sistemazione idrogeologica di competenza dei consorsi. E dall'altro una ridefinizione degli ambiti territoriali e dei comprensori di bonifica, istituiti con la vigente legge regionale 30 del 2004, che eventualmente necessita di una nuova ridefinizione, cercando quindi di affrontare il tema della perequazione fiscale in materia di bonifica integrata. Il disegno di legge regionale fu molto partecipato e discusso, sia in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, per l'espressione del relativo parere, sia in seno alle pertinenti commissioni, la prima e la seconda. Con il rinnovo della legislatura, purtroppo l'iter legislativo del disegno di legge si fermò e l'atto in commissione regionale decadde. È comunque volontà di questa Giunta riprendere il lavoro fin qui fatto dalle strutture regionali, verificarne la fattibilità giuridica ed economico-finanziaria alla luce del tempo trascorso ed eventualmente ripartire con un nuovo iter legislativo di riordino complessivo della materia. Non mi ritengo soddisfatto in quanto, a prescindere da quello che è il contesto, il quadro, non c'è stata una dichiarazione sugli intendimenti di questa Giunta. Si è soltanto fatto riferimento a quello che è la legge che dispone nell'ambito dell'approccio generale sui consorsi di bonifica, che oltretutto, qualora la Regione intenda porre il proprio capo, non c'è alcun tipo di questione che osta questo tipo di impegno. La questione è questa. O noi siamo di fronte a una situazione che la Regione ha protratto, in cui una parte del territorio regionale nel corso di questi anni non ha erogato e non ha contribuito alle attività di bonifica, o c'è una parte del territorio regionale che durante questi anni ha pagato quando non doveva, a livello politico. Quindi o smettiamo di trattare questi territori come colonie, perché di questo si parla, oppure andiamo a ragionare in un criterio di ripetrimetrazione e di intervento generale, perché non è più sostenibile questo tipo di discorso. Non è sostenibile che per un territorio ci siano soggetti che pagano due volte e il territorio in cui a farsi carico è la Regione. Questo non è fattibile e è in capo e è in possibilità della Regione totalmente intervenire per ripristinare questo tipo di giustizia. ci sono qui decine di interrogazioni, di atti di indirizzo presentati nel corso degli ultimi vent'anni dal centrodestra su questo tema, ci sono impegni presi in maniera inequivocabile in campagna elettorale e quindi ora che dalle parole si passi ai fatti e credo che anche rispetto a una delle ultime interrogazioni che ho rivolto a lei, Vice Presidente, quella relativa ai canoni idroelettrici, in un'ottica futura, visto che queste risorse andranno inserite e andranno riversate obbligatoriamente per regge sul territorio, che possano essere anche coniocati questi due discorsi e che quindi quelle risorse che vengono prese dal territorio ternano e che vengono prese da quei territori in cui sossistono questi impianti, possano essere destinate a eliminare questa tascia. Interroga il Consigliere Bori, risponde l'Assessore Coletto, intendimenti della Giunta regionale riguardo l'accessibilità al CUP e situazione dei lavoratori di Umbria Salute. Grazie Presidente. Ormai è entrata nella nostra consuetudine trovare ad accoglierci dei lavoratori che protestano. Ecco, noi vorremmo risolvere i problemi per cui protestano e non dover ogni volta trovare un'accoglienza perché i problemi non vengono affrontati. Prima l'Assessore ha detto che non è nella sua storia il privato in sanità, non sarà nella sua storia però è nei suoi programmi elettorali, è nelle sue linee guida di mandato. Le può trovare facilmente, c'è un passaggio in cui viene spiegato che il modello è la Lombardia, mi è sembrato un modello fragile in questa pandemia e che c'è troppo poco privato rispetto al pubblico in Umbria quindi bisogna privatizzare. È nelle linee di mandato, le trova lì. E per me le amministrazioni parlano con gli atti, non parlano con gli interventi. Per quello che riguarda uno dei tanti temi aperti e non affrontati c'è la schizofrenia di questa giunta rispetto all'accesso agli ospedali perché vedete si è vietato e sono stati chiusi con delle delibere specifiche prima nelle linee guida e poi nelle ASL l'accesso ai CUP, i centri unici di prenotazione, che sono il contatto diretto tra tanti cittadini di varie età ma principalmente di età più avanzata, è stato chiuso, è vietato. Ad oggi non si può accedere ai CUP. Contemporaneamente però si costringe una donna che vuole fare un'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica a un ricovero forzoso di tre giorni in un ospedale. Allora, qua c'è qualcosa che non va. Non va perché le scelte vanno fatte su base scientifica e non su base ideologica. Ad oggi i CUP non sono aperti, le persone hanno difficoltà ad accedere alle prenotazioni e ci sono delle liste d'attesa enormi che non vengono evase, quindi non si accede alle prenotazioni tramite sportello e non c'è la possibilità di effettuare le prestazioni. Problema che viene rimosso e non affrontato e questo impatta sulla vita di tutti i cittadini ma anche sulla vita dei lavoratori. Perché non è chiaro, Assessore, e ce lo deve chiarire, non solo il perché non permettete l'accesso ai CUP, ma in secondo luogo perché state per allontanare i lavoratori interinali e non solo che in questi CUP lavorano. Nonostante ci sia una delibera, il contratto collettivo di prossimità, siglato il 25 ottobre 2019, che voi state scientemente non applicando. Grazie, Consigliere Bori. Assessore Coletto per la risposta. Sì, grazie. Grazie, Presidente. Allora, chiariamo subito la situazione del CUP. Nella fase 3, con DGR 467 del 2020, è stato previsto per il CUP e altri servizi pubblici, questo è il passaggio, laddove possibile potranno anche essere adottate modalità semplificate di interazione con l'utente, via posta, elettronico o altri canali telematici. L'azienda USL Umbria 1 e le altre aziende l'hanno attivato. Nella fattispecie, nella delibera dell'azienda USL Umbria 1, si dice chiaramente che le prenotazioni possono essere telefoniche al numero di Umbria Salute, ci possono essere prenotazioni online, come già detto, e ci possono essere prenotazioni tramite Pharmacup delle farmacie abilitate. Quindi non c'è nessun tipo di chiusura dei CUP. Se le amministrazioni parlano per atti, come appena detto il consigliere Bori, ebbene l'atto c'è. È la fase 3, la delibera 467 del 2020, dove si dicono esattamente queste cose di più. È in atto una sperimentazione in città di Castello, dove la sperimentazione avviene direttamente con i medici di medicina generale. Quindi potrebbe essere che questo tipo di sperimentazione possa trovare collocazione in una futura delibera, in un futuro accordo con i medici di medicina generale, in maniera tale da alleggerire ulteriormente quelle che sono le prenotazioni che possono e devono essere fatte ai pazienti fragili, quindi agli anziani. Vedo che sorride, sono contento di questa sua attenzione. Schizofrania della regione. Non direi, direi proprio di no. Se i CUP sono stati chiusi, sono stati chiusi per ordinanza alla presidenza del Consiglio dei Ministri durante il Covid. Con l'apertura della fase 3 abbiamo riaperto anche i CUP, evidentemente. Noi non agiamo su base ideologica, agiamo su base scientifica se fa riferimento all'RU486. Sa perché? Perché lei come medico dovrebbe sapere, lo sa benissimo, che le linee di indirizzo fatte dal Consiglio Superiore di Sanità indicano il ricovero durante questi tre giorni. Se il Ministro Speranza li cambierà, prenderemo atto e agiremo di conseguenza, ma non abbiamo fatto né più né meno che applicare quelli che sono gli indirizzi del Consiglio Superiore di Sanità. Questo è, questi sono gli ultimi indirizzi, questi sono gli ultimi protocolli. Ripeto, se il Ministro Speranza li cambierà, noi saremo ben d'accordo, appliceremo la norma nazionale. Quello che abbiamo fatto adesso, né più né meno. Per arrivare da ultimo al precariato, alle assunzioni, alle possibili assunzioni per quanto riguarda Umbria Salute, molto semplicemente si riferisce a lavoratori somministrati per lo svolgimento di specifiche funzioni delle aziende sanitarie regionali, nei confronti delle quali non trovano applicazioni le vigenti disposizioni in materia di superamento del precariato. Sto parlando della Madia e del DL 101 del 2013. Ad ogni buon conto ci sono state più riunioni fatte nel CDA di Umbria Salute e ci sarà una prossima riunione, che sarà il 24 luglio, dove affronteremo il problema e cercheremo di risolverlo. Non c'è nessun tipo di prevenzione nei confronti dei lavoratori, io credo, anzi sono certo, visto e considerato che le amministrazioni parlano per atti, che l'abbiamo dimostrato più e più volte, chi era possibile stabilizzare attraverso la Madia è stato stabilizzato, per gli altri lavoratori cercheremo di trovare delle soluzioni che trovino riscontro nella normativa vigente. Non ci sono preclusioni di nessun genere e tipo, anzi, tutt'altro. Grazie. Grazie Assessore. Torniamo a recuperare la prima interrogazione. No, scusi, c'è la replica. Ah sì, mi scusi Consigliere. Grazie. Ma io sono sinceramente stupito dalla risposta dell'Assessore. Sono sinceramente stupito perché credo che tutti i consiglieri presenti, penso anche il resto della Giunta, sappia che ad oggi i CUP sono chiusi. Sono chiusi con una delibera della ASL numero uno. Lei ha appena detto che sono aperti. Questo mi stupisce perché il tema non è come si prenota. È chiaro che c'è la possibilità di farlo al telefono, per posta elettronica e tutte le sperimentazioni di digitalizzazione che a noi fanno solo piacere. Il tema è un altro. Che lei ha appena detto che se adesso io e lei usciamo e andiamo a un CUP, lo troveremo aperto. Se adesso io e lei uscissimo e andassimo a un CUP, lo troveremmo chiuso. Per una delibera specifica. Intendo lo sportello, quello che dialoga con il cittadino e soprattutto quello che dialoga con il cittadino di una certa fascia d'età o con delle difficoltà a farlo autonomamente per computer, telefono o posta elettronica. Allora è importante, secondo me, al di là di leggere quello che viene preparato, anche verificare se poi questo è nella realtà. Le assicuro al Sessore che i CUP sono chiusi e che questo è un grave disagio, un grave disagio alla popolazione. L'interrogazione era su questo tema, mi dispiace, ma lei ha risposto su un altro. E le segnalo anche che la preoccupazione non è solo del disagio alla popolazione, ma è anche, e lo ribadisco, per quei tanti lavoratori che si sono formati, precari, e che ora rischiano di non avere più prospettive lavorative di vita, proprio perché per scelta con una delibera specifica non solo di quello che diceva lei della fase 3, ma anche della ASL, i CUP sono chiusi. Grazie, consigliere. Quindi deve fare anche quella dopo, quella che era dei paparelli? Quindi, risponde, interroga il consigliere Bori e risponde, qui c'è Coletto Melasec, non ho capito chi dei due. Ospedale Narnia Melia, risponde la pace, sì. Interroga il consigliere Bori. Grazie, presidente. Noi abbiamo seguito il tema del presidio ospedaliero. Direi che faremo interrogazione replica. Dicevo, noi abbiamo seguito dall'inizio il tema del presidio ospedaliero di Narnia Melia, che nella riorganizzazione della rete ospedaliera è un presidio irrinunciabile, nella riorganizzazione della rete ospedaliera pensando a un'integrazione tra sanità territoriali, presidi ospedalieri, azienda ospedaliera universitaria. Questo non è solo un progetto, ma è in parte anche una realtà, un'opera infrastrutturale fondamentale e strategica, sia a livello geografico che a livello di politica sanitaria. Sono già stati stanziati 58 milioni di euro e spesi un milione e mezzo per il progetto esecutivo. Come sapete bene, in questa fase di difficoltà la sanità territoriale e i presidi diffusi sono stati centrali e ad oggi, nel decreto rilancio sanità, sono previste delle risorse specifiche sfruttabili per realizzare progetti già in campo, con anche i terreni già disponibili e il progetto esecutivo già fatto, per appunto realizzare realtà come queste. Il nuovo complesso ospedaliero rappresenta un punto fondamentale di questa rete ospedaliera Umbra integrata e diffusa. Andando a dialogare direttamente con l'ospedale di alta specialità, quello di Terni, e in particolare ha una vocazione sulla riabilitazione e sulla media-bassa specialità, in modo tale da decongestionare le difficoltà che si rilevano nella azienda ospedaliera per le prestazioni che devono essere presenti nel territorio. Noi abbiamo già trattato varie volte questo tema in Consiglio, ci sono state date delle rassicurazioni che però non si vedono, non si traducono in atti specifici, anzi, poi ci dirà l'assessore, ad oggi sembra addirittura essere uscito dal piano delle opere sull'ASL 2, siamo soliti studiare infatti, e quindi l'interrogazione verte sul se si intende realizzare, entro quali tempi specifici e portare all'attenzione del Consiglio regionale sia il nuovo piano sanitario regionale sia la realizzazione dell'ospedale di Narnia-Melia e con quali tempi, con quale modalità, la Giunta intende realizzare l'iter amministrativo di questo atto, contando sempre che sono già stati stanziati, sono già state realizzate una serie di scelte amministrative anche rispetto ai terreni e agli spazi, tra cui l'esproprio per la realizzazione. Grazie Presidente, inutile dire che prima della pianificazione per trovare una collocazione corretta del nuovo ospedale di Narnia-Melia, c'è l'iter che ho già descritto poc'anzi, cioè il libro bianco, il successivo piano socio-sanitario e quant'altro. Ciò detto, questo è un progetto che viene dal mio 90 anni, che è stato, come dire, un progetto sofferto, che ha visto parecchie cause pendenti, le ultime si sono risolte poco tempo fa. Quindi gli stanziamenti che venivano da altrettanto lontano sono da riverificare. Ciò detto, l'articolo 20 del Ministero è stato confermato, l'ho verificato io personalmente qualche tempo fa, va verificata la sopportabilità di un mutuo che si deve caricare l'azienda AS2 e vanno fatte ulteriori verifiche circa la viabilità, dell'interrogazione si parla di viabilità. C'era stato un accordo fatto fra la ULS, fra la Regione e fra la provincia di Terni, che dispone appunto che le parti si impegnano a garantire la sistemazione dell'accessibilità del nuovo ospedale, rinviando al successivo protocollo d'intesa l'individuazione degli interventi per l'adeguamento della viabilità e la definizione dei necessari finanziamenti. Precedentemente gli accordi erano diversi e c'era scritto esattamente chi si faceva carico di che cosa. Adesso è rinviato appunto l'articolo 8 riscritto. L'azienda US2 Umbra ha chiesto che venga convocato il collegio di vigilanza sull'esecuzione e l'attuazione dell'accordo del 13 ottobre 2017 in riferimento all'avanzato stato della progettazione esecutiva, sia alla luce dell'incontro tenutosi tra l'azienda e la provincia di Terni in merito alla sistemazione dell'accessibilità dell'ospedale, sia al completamento dell'iter procedurale finalizzato all'individuazione del soggetto che effettuerà le operazioni di verifica per la successiva validazione dell'opera da parte del RUP, compresa l'accessibilità, essendo già definite le condizioni per adempiere a quanto stabilito dal sopra citato articolo 8. L'azienda ha inoltre comunicato che in fase di elaborazione della progettazione esecutiva dell'ospedale Terni a Meglia, utile al fine di richiedere l'ammissione a finanziamento del Ministero della Salute. Ciò detto, ripeto, questo ospedale dovrà trovare la giusta collocazione, dovrà trovare i giusti posti letto che evidentemente non potranno che discendere dalla nuova pianificazione e non potranno che discendere dalla nuova gestione di quello che è l'azienda ospedaliera, come accennava poc'anzi il consigliere Bordi, l'azienda ospedaliera di Terni dovrà essere un polmone riabilitativo, vedremo come collocarlo, visto considerato che il progetto viene da lontano, che necessariamente dovrà essere rivisto, dovrà essere concordato con gli stakeholders, con i medici, con tutti quanti i portatori di interesse perché è inevitabile che ciò accada, in considerazione del fatto che il sistema sanitario Umbro dovrà e potrà essere solo ed esclusivamente un sistema sanitario integrato, cioè che collabora all'interno di tutte quante le strutture per dare delle risposte. Ognuno deve sapere chi fa che cosa. La distribuzione rarefatta, generalizzata di ospedali generici che fanno tutto, io credo che ormai sia una situazione superata e che deve essere ben definite in maniera tale da recuperare risorse, in maniera tale da ridestinare queste risorse, in maniera tale da ridare l'infa vitale a questa sanità che ne ha tanto bisogno, visto che l'ultima pianificazione viene da molto lontano. Grazie. Replica al Consiglio Papparelli? Prego, Consiglio. Assessore, questa interrogazione è un'interrogazione di gennaio, sono state diverse sul tema ma ancora non si continuano a dare risposte, si continua a dire, si dovrà, si farà. Capisco che, come dice lei, sono passati tanti anni, ma proprio perché sono passati tanti anni e ormai si è raggiunti alla conclusione del leader, non vorremmo che si ricominciasse da capo. Noi abbiamo una visione chiara di quello che dovrà essere l'assetto della sanità nell'Umbria del Sud con, se ci sarà, la messa a disposizione, come noi lo spieghiamo, del meccanismo europeo di stabilità. Noi pensiamo che quelle risorse debbano essere utilizzate per completare e modernizzare la rete dei servizi, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale della Concaternane, il nuovo ospedale di Narnia-Armelia che dovrà assolvere quelle funzioni di riabilitazione ed ospedale di comunità e ad Amelia la Casa della Salute per garantire a quell'area territoriale l'accesso ai servizi amministrativi specialistici e di diagnostica sanitaria. Lei su questo, né sul tema della quando intendete portare il piano sanitario regionale in adozione in Consiglio regionale, non ne abbiamo ancora notizie. Continuate a dare delle risposte totalmente elusive perché vorremmo sapere se nel bilancio di previsione, ad esempio lei non ha dato risposta, i due milioni previsti per la viabilità, per le opere infrastrutturali, la Regione ce li mette sì o no. Se l'ospedale di Amelia e Narnia si fa sì o no, entro quali tempi e con quale modalità. Fermo restando che avete avuto otto mesi a disposizione per cambiare tutto quello e fare tutte le modifiche che volevate e potevate fare. Ma mi pare che siamo fermi ancora alle ghiacchiere di otto mesi fa.